Non è il tipico video di caccia alla cala d'oro ma oggi vi faccio vedere un po' più i calcoli che faccio per analizzare una casa Avete già visto video di questo tipo ma visto che piacciono perché non farne altri Clicchiamo record e vi spieghiamo il perché è nato questo video Nell'ultimo video di caccia alla cala d'oro orlando ragazzi Uno dei commenti che ho ricevuto, non avendo ricevuto commenti con altre città americane ho visto Ciao Yashi puoi fare un video su come calcoli tu la Ruai su un immobile con vari esempi Grazie E qui ho detto sai che c'è? Facciamo una cosa che faccio tutti i giorni Perché non mostrare alla gente quello che faccio Allargiamo un po', andiamo a vedere uno dei settori dove io guardo le case in vendita in America Non è soltanto il mercato normale ma anche fuori dal mercato normale Perché? Perché normalmente non essendo sul mercato normale ragazzi Tendono a avere più diciamo spazio per negoziare Perché non essendoci un agente immobiliare di mezzo a cui il venditore deve pagare una fee per vendere la casa Tendenzialmente tu puoi negoziare un prezzo più basso Quindi che lo fai per un investitore lo fai per te stesso in realtà puoi negoziare di più Puoi anche diciamo abbassare il prezzo di brutto e non ci sono altri costi Quindi puoi diciamo dare una scusa su perché vuoi negoziare un prezzo più basso E quindi se noi andiamo su Facebook io ho già trovato una casa che mi interessa Qui a 82.000 dollari questa sarebbe una casa che io andrei a vedere Perché? Perché vedo che c'ha diciamo l'esterno bello protetto Abbastanza recente sembra sporco ma è comunque in buone condizioni Dopodiché cosa vedo io qui? Vedo muri messi bene che sembra il plaster che è il cemento di una volta Non è il cartongesso di una volta quindi un muro più isolante del muro nuovo Quindi non ha bisogno dell'isolamento dietro E vedo un legno originale Tutte le case che ho fatto fino adesso avevano il palivimento in legno pittato di marrone così Che a vederlo fa schifo è una cosa che fanno le case Cioè i proprietari delle case quando affittano perché sanno che è più difficile rovinarlo E quindi lo pittano Però come lo vedete lo puoi scartavetrare Pagare un 3 dollari a square foot a piede quadro E te lo fai scartavetrare te lo fai bellissimo Aumenta l'affitto di brutto perché rendi la casa veramente figa L'unica cosa che non mi fa impazzire è questo soffitto col fono assorbente Però ci può stare una cosa che ho visto spesso Cosa altra vedo? Vabbè legno sempre qui Vedo un bagno che ha un cesso relativamente nuovo La doccia vasca da bagno relativamente nuova E questa è una cosa buona da avere E diciamo quel pavimento che è un po' questionabile L'unica cosa che non mi piace per niente ragazzi è il pavimento qui di questo corridoio che cambierei Che altro vedo? Il cesso nuovo, lo scarico in ghisa che non è il massimo ma funzionano Magari il lavabo è l'unica cosa che cambierei Cosa ha bisogno della casa? Il pavimento Una bella pittata magari completa Quindi tra pavimento e pittata meno di 10.000 dollari Con una casa da 82.000 dollari Dov'è la casa? US 221 Lynchburg VA Mettiamo questo su zillo Ora come vado a vedere il valore di una casa? Come vado a vedere l'AROI? L'AROI nel mondo real estate ragazzi Nell'immobiliare si calcola in due modi Innanzitutto con l'affitto che fai con la casa E numero 2 ragazzi Con diciamo la crescita potenziale del valore Questa è la zona in cui si trova quella casa lì che ha senso La domanda è quali sono state le vendite Qual è il prezzo medio di una casa di 3 camere e un bagno Di quanti metri quadri abbiamo Non dice la metratura 3 camere e un bagno Facciamo qui non me lo dice Non me lo dice Quindi dobbiamo un po' improvvisare Andiamo a vedere le vendite passate E qui vi faccio vedere il bello dei dati americani Che io posso vedere tutto lo storico Mentre in Italia non lo posso fare Vediamo 150 che casa era questa 2022 3 camere e un bagno 244 5 camere e 3 bagni 187 non dice 175 3 camere e 2 bagni Messa perfetta Che altro diamo 174 per qualcosa che è stato Non è stato ristrutturato 3 camere e 3 bagni Questo però è troppo Se siamo conservativi 140.000 Vediamo qua Questa è una casa che hanno rimesso a posto Però 2 camere e un bagno 130 per 3 camere Un bagno Non messo a posto Secondo me il valore Una volta data una ripulita Rifatto quel pavimento Perché dico non rimesso a posto Perché si ho fatto il pavimento E ho fatto Diciamo La pittata Ma non ho cambiato tutto Non ho messo la cucina nuova così C'è un investimento totale di 82.000 dollari Più 10.000 Quindi 92.000 dollari C'è una casa che ne vale 110 Se vogliamo essere conservativi 120 se vogliamo essere a prezzo di mercato Cioè vedo un po' quello che c'è Faccio un mix tra le case che hanno più cose Le case che hanno meno cose Abbasso il prezzo Non voglio farvi vedere i calcoli Ma generalmente tu prendi un paio di comps Comparables E poi fai un valore Quindi in questo caso Se siamo conservativi Siamo sotto prezzo di mercato 110.000 120.000 se vogliamo essere a prezzo di mercato Perché preferisco più basso Perché voglio essere conservativo Voglio sempre calcolare Quello che posso prendere Se la casa la voglio vendere più velocemente Addirittura 105.000 Quindi comunque Un 15.000 di ritorno immediato Con un mese di lavoro Quindi fai un 15% di ROI Nel primo anno Solo di apprezzamento Più un apprezzamento medio di questo mercato E qui vai a vedere i dati di mercato Tra il 3 e il 5% Quindi lasciamo un 15% solo di apprezzamento Numero 2 Questa è la parte più importante Di cui parlo sempre ragazzi La rendita Come calco il ritorno sulla rendita Andiamo sul mio bellissimo file Che è questo qui Che avete visto più volte Infilo i dati Quindi 82.000 Più 10.000 di restauro E tra l'altro vi dirò Che questa casa Secondo me Se mi presento Con 75.000 di offerta La prendo Quindi facciamo 75.000 di offerta cash Facciamo che facciamo L'impresa di 1000 Con 86.000 C'è una casa C'è una casa La domanda è Quanto riesco a affittarla E qui andiamo su For rent Vediamo cosa c'è 4 camere 2 bagni 1650 1700 per 4 camere 2 bagni 2200 per 4 camere 2 bagni E mezzo Io direi Un conservativissimo 1300 Voi direte Mazza così basso Sì Io dico Un conservativissimo 1300 Preferisco essere conservativo Qui Poi ovviamente farei Un'analisi molto più pesante Ma adesso non la faccio Perché abbiamo Una camera meno delle altre Abbiamo un bagno in meno Quindi 1300 Abbiamo quasi dimezzato Però vabbè Va bene così Quali sono i costi Property management Se voglio delegare È il 10% Quindi 130 al mese Property tax È il 0.8% Del valore totale Che ho pagato Quindi 53 euro Al mese Poi abbiamo Assicurazione Che è 30 euro al mese Abbiamo una vacancy reserve Io calcolo Che la casa Non sarà affittata Tutto l'anno Ci saranno Un 5% dell'anno Di giorni Che la casa sarà sfitta Poi metto una riserva Che non è una spesa immediata Ma io la metto da parte Perché magari tra 5 anni Devo cambiare il tetto Magari devo fare riparazioni Io ho un 10% Dell'affitto Lo metto sempre da parte Alla fine Ho un costo totale Di 408 dollari Per un introito Mensile Netto Di 891 Che su un investimento Di 86 mila dollari Ragazzi È una cap rate Il mio ritorno Il mio ROI O net operating income NOI Del 12% 12.3% Quindi facciamo Un apprezzamento Del 15% Più Un affitto Che mi rende Il 12% Netto Questa casa Mi può rendere Il 27% Tranquillamente Quindi una bomba Magari il primo anno 27% Il secondo anno Avrò un apprezzamento Del 2% Più l'affitto Del 12% Senza neanche considerare Che magari C'è l'inflazione E l'affitto Sale Ed è così Che io analizzo Una casa Ovviamente Però poi metto I miei standard minimi Che può essere Il 5% Che accetto Questa qui potrebbe essere Una buona casa Però perché ci devo mettere Il lavoro Il mio standard minimo Il 5% Ed eccoci qua Così è che calco Così il metodo Che utilizzo Per calcolare L'arrowai potenziale Ovviamente poi Devi andare a vedere La casa Devi fare i calcoli Delle altre spese Che non hai visto Però in generale Se c'è un buon punto Di partenza Può essere anche Cioè Ti va bene anche Trovare altre cose Più avanti Quando vai a vedere La casa E fai un'ispezione Perché tanto Hai già un buon Alto punto Di partenza Ragazzi Questo qui conclude Il video Su come analizzo Appunto le case Con questo esempio Qui che avevo visto Questo potrebbe essere Una buona casa Ha bisogno di un paio Di lavoretti Non sono pesanti Sono principalmente Cosmetici La cosa che a me Importa per di tutti Sono il tetto E il di fuori Perché la cosa peggiore In America Sulle case È il danno per acqua Perché appunto Sono di legno Detto ciao ragazzi Questo qui del video Se vi piace quello che faccio Lasciate un like E subscribe Se avete domande Lasciatele qua sotto Magari come questo video Qui ci faccio un video Se vorrete che vi ricerco Mercati americani Specifici immobiliari Lasciate un commento E io ci farò un video Perché ho bisogno Di vostro input Detto ciao ragazzi Ciao Ci vediamo alla prossima Ciao